Assessore buon appetito, ma Unto è pronto? Di punto in bianco, punto in bianco no ma Unto, tutto pronto per Unto? Ma non posso chiederlo a Raspa perché non è l'assessore Raspa, lei è l'assessore, l'assessore è molto più dell'assessore, chi fa le cose vale molto di più di chi le pensa o che le immagina. Come disse una sera le manifestazioni partono anche da chi porta le seggio, da chi fissa le panche eccetera, ma buon appetito sempre, ma Unto è pronto? Prontissimo guarda, stanno trasparenti la struttura, bella no? Quante aziende ci saranno? 40. Quanto ha detto Francesco? Quello che dice l'assessore va sempre bene. E quindi? 40. 40 più dello scorso anno? Sempre di più, mai meno. Ma che sta mangiando? Piadine con stracchino, basta ma un po' d'olio no? Non ci dice niente, vabbè insomma se Unto è pronto, 40 sono, no guardi che va in onda eh, va in onda così Assessore, Assessore lei va in onda così se lo ricorda vero? Ecco mi sta picchiando, mi sta picchiando guardate, andrà in onda così, buon appetito allora.